Beh, si chiede la possibilità di fornire mascherine per tutti da parte di un'amministrazione comunale. È impensabile per tante ragioni, in primo luogo perché le mascherine non hanno durata limitata e quindi questo significa che per un comune come Campobasso dovremmo fornire circa 30.000 mascherine a settimana che non soltanto è impensabile da un punto di vista economico ma anche proprio di possibilità di approvvigionamento e ricordiamolo che vanno giustamente privilegiati gli approvvigionamenti per le strutture sanitarie, quelle socioassistenziali, per tutti coloro cioè che sono esposte a un rischio concreto e maggiore. Per tutte le altre persone la regola è sicuramente quella di coprirsi il volto, anche con prodotti di fortuna, tenendo però presente innanzitutto che non è che utilizzare una mascherina significa come dire, fare liberamente o comunque eliminare il distanziamento perché la mascherina più efficace è il distanziamento sociale. Quando ci richiamo al supermercato ci copriamo il volto anche con altri, ripeto, prodotti ma attenzione a ingenerare questo dubbio. Il reperimento delle mascherine tuttavia sembra che finalmente stia aumentando per tutti e quindi le farmacie hanno iniziato ad averle e speriamo che a breve siano disponibili un po' per tutti considerando che comunque sarà buona norma coprirsi il volto per un periodo di tempo molto lungo.